Open day sabato pomeriggio all'Istituto di istruzione superiore Giuseppe De Gruttola di Ariano Irpino. Porte aperte quindi nelle sue due sedi, quella di Rione Martiri e quella di Rione Cardito. Ampia l'offerta formativa dell'Istituto che banta diversi indirizzi a cui iscriversi agrario, elettrotecniche automazione, meccatronica, chimiche e biotecnologie e infine l'Istituto Alberghiero. A presentare l'offerta formativa il professore generoso Maraia. Il nostro punto di forza, ha detto il responsabile dell'orientamento, è il collegamento diretto con le aziende locali che permette ai nostri studenti di interfacciarsi da subito con il mondo del lavoro. Il De Gruttola è una grande scuola che offre grandissime opportunità soprattutto in campo lavorativo perché è ben collegata con le nostre aziende locali ma dà la possibilità ai nostri studenti, ai nostri diplomati non solo di avere appunto un diploma finito ma di continuare gli studi anche accademici e quindi di iscriversi all'università. È una scuola appunto che dà la possibilità di avere una formazione completa. Nel nostro istituto si studiano tutte le discipline che si studiano anche negli altri indirizzi, in particolar modo il bienio è comune agli altri indirizzi delle scuole superiori. Il punto di forza sono i nostri laboratori, i nostri laboratori di chimica, di meccatronica, di elettrotecnica e il nostro alberghiero così come l'agrario. Fin dal terzo anno i ragazzi iniziano attraverso i percorsi PCTO che sarebbe l'ex alternanza scuola lavoro a iniziare degli seggi lavorativi presso ristoranti, alberghi o anche le industrie che sono nelle nostre aree industriali. Quindi entrano per primi nel mondo del lavoro rispetto ad altri istituti. Abbiamo avuto la fortuna quest'anno di poter ospitare oltre 400 alunni provenienti da tutto il territorio e dal comprensorio provinciale perché per noi è importante far conoscere appunto come è fatta fisicamente la nostra scuola, gli investimenti in tecnologie molto avanzate nei nostri laboratori che sono veramente il nostro cuore pulsante e quindi abbiamo cercato di farci conoscere perché chi ha potuto conoscerci ha soprattutto apprezzato il corpo docenti e i laboratori presenti qui. Il nostro appello è di venirci a trovare, di fare la scelta giusta, di ponderarla non solo valutando ciò che si andrà a fare a settembre ma soprattutto proiettandosi su ciò che si farà nella propria vita perché questo istituto formerà quei profili che sono molto ricercati nel mondo del lavoro.